Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Torniamo oggi con un nuovo video dedicato al gigantesco recupero di Topolino che ho fatto a fine dicembre, che comprende i numeri dalla fascia 700 alla 2006. Ho già provveduto a fare qualche video relativo a questi numeri e che ho suddiviso di centinaio in centinaio. Il primo video che potete trovare sul canale riguarda la fascia 1800-1900, perché è quella a cui sono più legato a livello sentimentale, perché sono gli albi che acquistavo da bambino. Poi dal secondo video ho deciso di procedere in ordine cronologico dai più vecchi ai più recenti, quindi troverete la fascia 700 nel secondo video. Nel terzo video è la fascia 900, manca l'800 perché la possedevo già interamente, ve l'ho portata in un altro precedente video, qualche mese fa, e che ho sostituito, o meglio, ho venduto per acquistare altri lotti che poi vi porterò man mano sul canale. Adesso, col quarto video, vi vado a parlare della fascia 1000, quindi dal numero 1000 al numero 1099. Vi premetto che è quasi completa, mancano un paio di albi, due o tre, credo. Qualche albo lo sostituirò, però nel complesso è un ottimo lotto, considerando anche, vi ripeto, che li ho pagati 25 centesimi l'uno. Quindi comunque sono albi di quasi 50 anni fa pagati circa 25 euro, anche meno. Come mia abitudine vi mostrerò tutte le copertine, vi dirò un paio di parole o qualche aneddoto che mi verrà in mente di volta in volta, perché non preparo mai niente prima. Sono molto estemporaneo, sono molto diretto, molto amatoriale, e questa è la mia caratterizzazione maggiore. Prima di iniziare volevo ringraziarvi per la fiducia che è data a questo canale, con le iscrizioni, con le visualizzazioni, con i commenti. Lo faccio raramente, ma siete sempre nei miei pensieri. E addirittura qualcuno mi ha anche eletto come baluardo quasi di colui che mostra le copertine degli albi sulla rete, perché canali ben più importanti del mio momentaneamente hanno smesso di farlo. E quindi questa è un'ulteriore fonte di fiducia che mi viene instillata da parte di voi che mi seguite. Quindi vi ringrazio, bando alle ciance, farò questo video che durerà penso un'oretta come questi ultimi che sto facendo, spero di non annoiarvi, commentate se chiaramente nel corso del video ci sarà qualche errore che farò o qualche cosa che non saprò perché non posso conoscere tutto, benché meno di albi che non ho vissuto direttamente. Commentate pure perché la cosa più bella che più mi piace di questo canale e poter interagire con gente che ne sa anche più di me. Quindi vi ringrazio. Procediamo. Numero 1000. Allora, piccola premessa. Il numero 1000 non era compreso nell'albo, però essendo la fascia che comprende dal 1000 al 1099 era giusto che ve lo mostrassi, visto che ce l'ho, ho fatto un video recupero su questo e anche un video in cui ve l'ho recensito integralmente. Quindi qui soltanto vi faccio vedere la copertina di Marco Rota per questo splendido numero 1000 e l'ho uscito il 26 gennaio del 1975. 1000 e 1 Anche qui abbiamo una copertina di Marco Rota che rappresenta su questo sfondo giallo molto da anni 70, molto semplice, i nipotini che fanno degli roppellini di carta con le banconote di paperone che è disperato. Da questo albo in poi troveremo, o meglio in questa fascia, quantomeno troveremo storie italiane e statunitensi. Di solito la prima e l'ultima sono italiane e le altre statunitensi, quindi cominciano a essere più cospicue le storie italiane, ma ormai era da un po' che veniva così. Abbiamo grandi autori. In questo caso, per esempio, nella prima troviamo Franco Asteriti ai testi e Sergio Asteriti ai disegni. Poi Tony Strobel, Jerry Sigale con Giancarlo Gatti, Bruno Mandelli e Guido Scala. Sigale, tra l'altro, inventore del 1938 di Superman, era molto in vogo sul topolino nei primi anni 70 e sceneggiu tantissime storie. Questo è il 1000 e 1 ha delle scritte ma complessivamente un ottimo albo, non credo che lo andrò a sostituire. 1000 e 2 Questo ha un po' di macchie sulla copertina, anche qui lateralmente e anche dietro. Però, a parte questo, mi sembra un albo in ottime condizioni, anche la costina c'è poco da dire. Però, in un'idea di perfezionismo, magari un giorno potrei sostituirlo, ma dipende anche il costo, perché se devo pagare i 5-6 euro per un singolo albo, sinceramente me lo tengo così. Adesso va bene in queste condizioni, disegno i polmarri nella copertina con questo Pluto, che negli ultimi anni è sparito praticamente dal topolino. Vi faccio vedere solo la prima storia, Zio Paperone e il vero finto furto di Pezzin e Cavazzano. Quindi, numero 1002, uscito il 9 febbraio 1975. Numero 1003 Questo bello sfondo blu, con Paperino e due nipotini sfruttati, su disegno di Marco Rota, che ci presenta un albo, anche qui che contiene storie italiane ed estere. Non ce n'è qualcuno in particolare, sto scorrendo in DAX, per vedere se c'è qualche storia che mi ricordi qualcosa, non ce n'è nessuno in particolare. Questo è l'albo, buone condizioni, anche questo non credo che lo andrò a sostituire. Ripeto, pagato 25 centesimi, l'avessi pagato 3-4 euro, magari non l'avrei preso. Numero 1003, 16 febbraio 1975. Numero 1004, questo ha qualche problema in più in copertina, ha qualche, un po' scolorito qua, però, complessivamente, per un albo uscito 8 anni prima che nasce sia, il 23 febbraio 1975, sono il 25 febbraio, 83, direi che è in buone condizioni. Disegno della copertina, matite di K. Wright, inchiossi Larry Mayer, la prima storia disegnata a polmare, i topolini all'isola dei mostri, non mi sembra nuova come idea, come titolo, potrei averla letta. Poi, anche qui, se c'è qualche storia in questo centinaio che mi volete segnalare, che potrei leggere, portarvi sul canale, o qualcuna che magari verrà a mente a me, ne parleremo in futuro, tanto il tempo c'è. Quindi, topolino numero 1004. Numero 1005, qui abbiamo una copertina sul disegno di Bob Gregory, si riconosce perché ha questi disegni, questo stile che io definirei un po' infantile, un po' squadrato, Paperino che si è dato una martellata e Paperina che lo consola, lo cura, e allo stesso tempo lo capisce che personaggio è, quindi lo accetta così per com'è. Anche questa copertina ha qualche problema, qualche sto albo, però complessivamente è messo in buone condizioni, si ha delle macchie e la costina è leggermente scolorita, quindi questo potrebbe essere magari sostituito, però non è una priorità in questo momento, anche in questo caso. Quindi, disegni Bob Gregory con i nostri Paperi. Ma anche il 1600 non c'era nell'8, perché da qui in avanti non ci sono albi che io ho deciso di togliere perché rovinati, semplicemente se non ci sono è perché mancano. Quindi il 1600 avevo in copertina Super Pippo, lo recupererò. Il 1700 che è questo di qua, ottime condizioni generali se non fosse che ha dello scotch. Zio Alenne dice che per lui non è un problema, invece per me lo è. Quindi questo è sicuramente un albo che andrò a sostituire, perché proprio non posso vederlo così. Se non fosse per questo scotch di rinforzo, sarebbe un albo in ottime condizioni. È bella la copertina con questi colori molto anni 70, Archimede con questi pantaloni e con questo cappellino sul rosa, nonché anche la parete gialla e rossa, con questo bel disegno. Ah, in Dax non dice di chi sia. Vi segnalo che nella prima storia su testi di Giorgio Pezzini e disegni di Giorgio Cavazzano abbiamo Paperoga protagonista. Paperoga è il peso della gloria. Questa è una storia che vorrei leggere. Interessante. E poi abbiamo storie al solito americane, italiane e così via. Numero 1008. Qui abbiamo Chop, addirittura uno dei due scogliattolini protagonista, ma non è l'unica copertina così. Molto semplice, con Chop che si paracaduta con una foglia. Anche questo albo in buone condizioni delle macchie, ma che complessivamente per me non sono così fonte di fastidio. quindi non so se lo sostituirò. Ripeto, hanno pagato 25 centesimi, sono dei compromessi che io posso tranquillamente accettare. La prima storia italiana, Giulio Chierchini ai testi e ai disegni, io Paperoga nel milione di kilowatt. Poi iniziamo la fase Robin Hood. Ricordiamoci che proprio nel 73 era uscito il cartone animato, credo nel 73, e adesso comincia un ciclo di albi con dei gadget allegati. E qui, nel numero 1009, che in ottime condizioni, se non un po' smattonellato, per usare un termine un pochettino così, nel senso che è un po' piegato, ma poi nel complesso è un ottimo albo, abbiamo su disegno di Marco Rota in questo numero un magnifico regalo il grande gioco di Robin Hood. Ho dato una sfogliata veloce all'interno, ma non mi pare che ci sia nessun richiamo a questo gioco, forse c'era un gioco allegato, un gioco in scatola, chi ne ha conoscenza me lo dica, così ne possiamo parlare, ne possiamo discutere. Topolino 1009 del 30 marzo 75. Numero 1010, qui cominciava la serie di gadget allegati con i personaggi di Robin Hood, appunto, il principe Giovanni, Little John, Bixley, come si chiama, il serpente, Fratac, lo sceriffo di Nottingham e ovviamente Robin Hood, con questo grande scudo di Sherwood e queste medaglie. e lo scudo era legato proprio al numero 1010, tra l'altro sembra in rilievo, lo si vede anche già dal video, immaginate dal vivo. Copertina di Marco Rota e quindi iniziava questa iniziativa. Molto bella la copertina, non ci sono storie che richiamano Robin Hood all'interno. Numero 1011, qui abbiamo le storie con queste immagini che io ho definito psichedeliche che richiamano appunto i personaggi di queste medaglie, diciamo, di questi scudetti. Qui abbiamo il principe Giovanni che era il il pauroso fratello del del re d'Inghilterra che aveva preso il suo posto Giovanni senza terra sarebbe, ma chi conosce il cartone di nato sa bene le sue caratterizzazioni. Sul disegno di Marco Rota questo bello sfondo viola, anche questo è un albo condizioni buone, di certo non andrò a sostituire. Controlliamo un attimo per sicurezza se vi sia qualche storia che richiami Robin Hood direi di no. Le storie su Robin Hood credo che siano nella fascia 800 o forse anche prima quando è arrivato appunto il film d'animazione. Numero 1012, qui abbiamo Fratac con questo sfondo rosso è un pochettino rovinato quest'albo, questa copertina ma nel complesso mi sembra in ottime condizioni. Ah ecco, qui manca una pagina. Bene. Questi controlli mi è già successo nella fascia 900, questi controlli sono importanti perché permettono di capire se qualche albo dovrà essere sostituito. Quindi questo non è messo benissimo di copertina, l'avrei tenuto, ma mancando una pagina sicuramente andrà sostituito. La prima storia si chiama Razziatori del Rio Grande di Guido Martina e Giovanni Battista Carpi e la copertina appunto di Marco Rota quindi questo andrà sostituito. Andiamo al 1013. Allora, il 1013 ha in copertina Robin Hood anche qui abbiamo lo scudetto di... viene presentato di in albo in albo lo scudetto che verrà regalato la settimana successiva quindi sarà Little John qui abbiamo Robin Hood allora la copertina è abbastanza rovinata abbastanza scolorita e soprattutto ha delle scritte in alto a parte questo ecco qui abbiamo il Razziatore del Rio Grande la seconda puntata dovrebbero essere sì Topolino Kid e Pippo Seicolpi esatto il ritorno ho letto tra l'altro la prima storia recentemente questo è un albo in buone condizioni però ha questa copertina così questo sinceramente potrei decidere di sostituirlo per queste scritte però al momento mi sembra comunque accettabile anche qui chiaramente copertina di Marco Rota poi mancano un paio di albi manca il 1014 con la copertina di di Little John e che presentava lo scudetto di Sirbis Sirbis e appunto la 1015 con Sirbis che presentava invece il successivo scudetto dello sceriffo di Nottingham e si passa direttamente al 1016 che appunto è in copertina lo sceriffo di Nottingham e che presenta lo scudetto e completare il grande scudo di Sherwood quindi un ulteriore scudetto anche questo disegno di Marco Rota è la prima storia Paperinic è la bussola parapsicologica prima puntata su testi di Guido Martino e disegni di Massimo Revita ma eravamo nella fase in cui Martina collaborava con De Vita sul topolino per Paperinic buone condizioni la costina è leggermente sbiancata però nel complesso io penso che quest'albo lo potrei tenere comunque anche qui al solito si voluterà di volta in volta e abbiamo finito con i numeri relativi a Robin Hood e si passa al 1017 1017 su disegni che write questa si vedeva palesemente come fosse una copertina non italiana uscita il 25 maggio 75 con i i nipotini vestiti da giovani marmotte abbiamo la seconda parte della storia di Guido Martina e Massimo De Vita su Paperinic e la Paperinic la bussola parapsicologica albo qui c'è poco da dire ottime condizioni ah qui c'è una storia di Moby Duck e così via topolino 1017 numero 1018 copertina di John Kerry alle matite inchiostri force di Pet Alvarado dice in Dax Paperino con Amelia e Gennarino nonché altri corvi mi piace questa cover è un po' particolare questo albo è veramente bello prima storia Gian Giancione Dalmasso Giulio Chierchini Zio Popperone e la cronovisione e poi abbiamo altre storie anche qui italiane e statunitensi topolino 1018 quindi come potete vedere gli albi a parte i due che mancano e quello che dovrò sostituire perché manca una pagina nel complesso sono messi bene poi appunto pagati comunque due soldi davvero i difetti che ci sono perché non sono perfetti me li faccio passare tranquillamente numero 1019 allora questa è una copertina che richiama già un altro topolino credo della fascia 900 no forse 700 con lo sfondo verde cui praticamente l'immagine è pressoché identica compluto in questa situazione in questa posizione non è la prima volta che e non sarà l'ultima in cui il topolino riprenderà una vecchia copertina è successo almeno 5-6 volte già in tempi piuttosto antichi e quindi ha questa curiosità numero 1019 il disegno di Paul Murray che è anche l'autore dell'altra cover immagino albo in condizioni molto buone direi leggermente scolorito lateralmente ma io questo sinceramente non mi sento di sostituirlo ma qua si vede addirittura topolino numero 19 questo è proprio stampato questo è veramente un bell'albo c'è una storia di ezechiele e così via quindi topolino 1019 topolino 1020 qui abbiamo Pippo che utilizza la pioggia per innaffiare geniale a suo modo su disegno di Giuseppe Perego la copertina ha qualche segno del tempo ma complessivamente questo non è un albo che andrò a sostituire anzi direi proprio di no abbiamo una prima storia di Rodolfo Cimino e Franco Lostaffa Zio Popperone la sabbia pesante al solito poi bell'albo che ha quasi 50 anni topolino 1020 1021 qui abbiamo nuovamente le giovani marmotte quindi dopo pochi numeri tornano i nipotini in veste di giovani marmotte che arrossiscono un pollo utilizzando l'energia idrica il disegno dovrebbe essere K.Wright sicuramente non è italiano per questa per questa bella copertina sto guardando le storie se c'è qualcosa di particolare potrebbe essere interessante l'ultima ecco qua il sommario è leggermente cambiato rispetto agli altri Paperino sulle rotte Cristoforo Colombo pagina 136 Dax dice che una storia in costume su testi di Carlo Dalbe e di San Giuseppe Perego quindi una storia ambientazione Cristoforo Colombo si vede molto la mano di Giuseppe Perego quindi magari questa la leggerò topolino 1021 1022 quindi vedete che gli albi ci sono quasi tutti ecco qui abbiamo l'ennesima copertina Moby Duck dico ennesima perché già dalla fascia 600 Moby Duck di tanto in tanto appariva un personaggio che secondo me una decina di copertine le ha avute dedicate uno dei primi video che ho fatto o short non ricordo parlava proprio di questo personaggio che è nato proprio negli anni 60 e quindi adesso qui ha una decina d'anni però mi ricordo che fu molto pompato in quegli albi anni 60 cioè quelli che ho almeno perché evidentemente è un personaggio che funzionava matite di Keywright e inchiossi di Larry Mayer qui abbiamo vi segnalo la prima storia di Romano Scarpa Pippo la grande minaccia i testi e i disegni Scarpa descrizione sembra una banda invece ristruttura la casa di Pippo gratuitamente quindi evidentemente ci sarà qualche qualche altarino dietro albo in ottime condizioni questo forse leggermente scolorito in costina ma io questo me lo tengo senza ombra di dubbio 1022 andiamo a quello successivo il 1023 qui abbiamo Archimede che si è guadagnato l'onore di una copertina con questo disegno molto luccicante molto bello mi piace dal vivo è più bella che dal disegno questa copertina disegnata Giancarlo Gatti quindi forse è una situazione occasionale non lo so abbiamo il nostro genio in porta albo buono qui si c'è qualche difetto ma io questo qua non lo cambierò assolutamente topolino 1023 del seluio 75 1024 cover con i nostri topi su disegno di Marco Rota abbiamo in prima topoline pirati dei caraibi su testi di Franco Asteriti e disegni di Sergio Asteriti avventure in costume nel 1575 quindi anche questa potrei leggerla e poi vedo che ci sono più di una storia italiana qua comunque sembra un albo interessante anche questo ecco questa c'ha ecco questo è un problema non me ne ero accorto ecco questa magari dovrei cambiarla effettivamente mannaggia perché l'album è so bene vabbè sì direi che lo cambieremo questo pazienza numero 1025 qui torniamo con un disegno di Bob Gregory e inchiostro di Tony di Paola forse con Paperino e Paperina che guardano questi uccellini fare il bagno sinceramente i disegni di Bob Gregory mi sembrano veramente molto infantili devo dirla tutta prima storia Paperino il casco respingente su testi di Rodolfo Cimino e il disegno di Giorgio Cavazzano Paperino campione di rugby questa sembra una bella storia interessante avevano storie di Paperino di Pippo Moby Duck appunto Archimede insomma vari personaggi che sono albo in ottime condizioni qui c'è poco da dire mi spiace per quello precedente davvero quasi quasi me lo tengo così e me ne sbatto sinceramente vedremo numero 1026 è super Pippo con questo super super gelato su disegno di Marco Rota siamo a luglio 75 quindi ci sta super gelato niente anche qui niente di particolare da dire se non è che ci sono storie italiane ed estere ecco questo di qua è un po' rovinato nella costina laterale però non è niente secondo me di così trascendentale quindi io me lo tengo poi abbiamo il 1027 con questo paperone che cavalca vestito da zoro un cavallo d'acciaio disegno di Giancarlo Gatti quindi anche qui abbiamo Gatti molto bello lo stile di Gatti onestamente non lo conoscevo sembrano brillanti sembrano emergere i colori molto bello questo è un po' sporco come Albo ma forse basta dargli una pulita ma non lo vado non lo vado a cambiare sinceramente per questo motivo la prima storia è di Romano Scarpa e di Sandro del Conte di Segni Topolino la Magnum 777 una storia di spionaggio la prima parte anche la seconda italiana è l'ultima di Jerry Segal e Giancarlo Gatti però di fatto italiano ecco qua si sono piegate non sono rovinate sono piegate semplicemente ecco volevo farvi vedere i disegni di Giancarlo Gatti nell'ultima storia proprio mi piace mi piace come disegna Gatti come emergono alcuni aspetti ecco e tra l'altro qui abbiamo il richiamo alla copertina perché in quegli anni come adesso del resto ma come non è stato negli anni 80 si richiamano le copertine richiamano una storia numero 1028 10 agosto 75 i nipotini che provano a lanciare questo razzo con uno dei fratelli su disegno di Marco Rota qui abbiamo la seconda parte della storia di spionaggio albo in ottime condizioni quindi questo sicuramente rimarrà così ecco è cambiato anche un attimo un altro po' il sommario topolino 1028 1029 qui dopo dieci numeri scarsi come vi dicevo torna Moby Duck sul disegno di Marco Rota abbiamo questo numero che è uscito in concomitanza col ferragosto del 75 ovviamente abbiamo una storia dedicata a Moby Duck Moby Duck è la balena delle bolle che dà l'immagine alla copertina e tra l'altro la cosa curiosa è che sarà presente Paperina quindi Moby Duck è Paperina quindi una coppia assolutamente atipica ah questa storia la conosco la colonna di Sar ecco sì sì questa storia la conosco l'ho letta in qualche classico di Vic Lockman e Bob Gregory ambientata in Mesopotamia questa l'ho sicuramente sì Paperino Mese 157 ecco dove l'ho letta ce l'ho il numero 157 Paperino Mese mi ricordo proprio questa immagine e poi la prima avventura e chiudiamo su tessi di Guido Martini disegni Massimo De Vita Paperinic il loro un milione la prima parte quindi questo un bell'albo 1029 1030 torna Super Pippo che era presente anche nel 1006 che non ho quindi dopo poche settimane con lo sfondo giallo quasi sempre Super Pippo aveva questo sfondo giallo che evidentemente contrastava bene con il rosso del suo del suo pigiama praticamente è il blu del mantello disegno Marco Rota abbiamo chiaramente la funzione di Paperinic della storia di Paperinic Moby Duck e poi ci sarà sicuramente un assorio con Super Pippo sembrerebbe di no da Indax comunque albo in ottime condizioni niente da dire 1031 questo è un po' più rovinato c'era un era stato scarabocchiato qua e hanno provato a cancellarlo ma anche questo direi che non è un albo particolarmente disagevole per me copertina di Peite Alvarado e poi abbiamo soli testori di Cimino Gregory e così via quindi Topolino numero 1031 il 31 agosto 75 1032 questo bel disegno di Paperone che fa una sorta di serenata pensando ai suoi dollari sul disegno di Marco Rota secondo me potrebbe essere la prima storia a essere richiamata da questa copertina vediamo vi apro poco perché non è che siano rovinati assolutamente però sono comunque albi vecchi e voglio stare attento no forse non è questa è semplicemente un richiamo anche se mi sembra difficile perché di solito gli albi richiamavano appunto una una storia a cui ho visto 10 lire ah ecco Dino Zoff grande Dino Zoff c'è anche l'allegato della cartolina vabbè Topolino 1032 del 7 settembre 75 1033 qui abbiamo i Bassotti che si sono guadagnati il diritto alla cover fattezze un po' particolari dei Bassotti diverse da come li immagino io è disegnata Marco Rota probabilmente non mi è mai capitato di vederne disegnati da Rota anche qui abbiamo varie storie Zio Popperone il duello aereo di Jerry Seagal e Massimo De Vita era veramente un autore italiano Seagal in quel periodo che andava a salutare l'estate del 75 qui vedete io cosa devo sostituire di questi albi sinceramente poca roba 1034 qua comincia un po' di pioggia arriva l'autunno quando l'autunno arrivava a suo tempo disegno di Marco Rota vi segnalo la prima storia Paperin Sansone su testi di giro e di sigara e disegni di Tiberio Colantuoni che non conosco Paperin viene trasformato in Sansone da da d'Archimede interessante questa secondo me è da leggere a qui abbiamo Spennacchiotto personaggio che io non ho mai beccato sul topolino ai miei tempi una storia l'ho vista in tempi recenti ma ai miei tempi negli anni 80 e 90 non ho mai visto Spennacchiotto quindi qui c'è il nostro Emilio Aquila in inglese si chiama così va bene anche questo si questo è un albo un pochettino invecchiato però nel complesso penso che lo terrò non mi crea particolari disagi c'è anche la cartonina all'interno e va bene così 1035 qui siamo a fine settembre 75 questa bella cover secondo me di Giancarlo Gatti infatti proprio dà un effetto di lucentezza è veramente bravo nelle cover Gatti abbiamo Tippet Up con queste papere queste paperelle e poi solite storie la prima di Giulio Chierchini ha una storia di Lillo che c'era anche ai miei tempi e così via Gatti anche qui disegno una storia vedete che bello lo sia di Gatti veramente è stata una scoperta oggi per me 1036 questa è un pochettino invecchiatina ma le cover blu o violette comunque tendevano a invecchiare più delle altre però nel complesso è un albo direi in ottime condizioni sì questa ha qualche fioritura evidentemente però sinceramente non non credo che sia un problema copertina di Peite Alvarado e poi soli di Barosso e Asteriti e così via 1037 cover con uno dei Bassotti che disegna i penitenziari in cui è stato Simzing Baeta San Quintone Alba Trazzo ovviamente tutte tutte delle parodie dei grandi penitenziari disegno di Giorgio Cavazzano bella cover di Cavazzano albo in buone condizioni complessive io penso che possa andare bene non credo che lo sostituirò questo Zio Paperone La Guerra Nei Nervi no pensavo di averlo già letto da qualche parte l'Incipit mi ricordava qualcosa Super Pippo Pippo Moby Duck Ezechiele Paperino Chip e Chop questo ha un sacco di storie veramente tante infatti sembra anche un pochettino più grosso no comunque tante storie saranno tutte più brevi comunque questo mi sembra un albo in buone condizioni sì qualche problema in alto qua ma non penso che lo sostituirò comunque questo questo mi può andare bene così 1038 questa è una bella cover con un paperino che deve tagliare i capelli ai nipotini e c'è anche un cagnolino in mezzo su disegno di Marco Rota è molto carina questa cover uscita il 19 ottobre 75 quindi penso ai ragazzini di allora la scuola era già iniziata da un po' prima storia di Guido Martina questa addirittura non si riesce manco ad aprire Guido Martina e Giancarlo Gatti bello molto bello poco da dire albo veramente in ottime condizioni 1039 ecco questo un po' di scotch si vede subito cover di Giancarlo Gatti ma si capisce sempre da questo da questo richiamo a questi effetti un po' luccicanti l'albo in buone condizioni ma ha avuto questo scotch che secondo me se lo potevano risparmiare a suo giro un pochettino staccato di qua ma qua è stato tolto buono lo so lo sostituirò perché lo scotch mi dà veramente fastidio ma nel complesso si potrebbe anche tenere volendo diciamo che diamo priorità ad altro prima storia di Romano Scarpa e Sandro Alconte e così via tanti altri qui abbiamo il numero 1040 anche questo mi sembra di Giancarlo Gatti ormai ho imparato a conoscere lo stile ah no Marco Rota ecco ho detto una sciocchezza anche qui Carlo Candy e Giancarlo Gatti è la prima storia e poi così via altri racconti ma non mi soffermo su nessuna storia in particolare salvo qualche eccezione che può essere qualche parodia o qualche storia che magari conoscevo perché sinceramente ho poco da dire non le conosco queste storie c'è un richiamo a un giallo di Topolino da qualche parte ecco questo è uno degli errori che fa in Dax perché mi dice che in quarta di copertina doveva esserci richiamo al giallo di Topolino ma in realtà non è qua se lo trovo ve lo faccio vedere altrimenti vabbè ah eccolo qua il lato super veloce giallo quiz ah è una storia ah ecco è una storia che inizia così va molto bello molto bello veramente il disegno di seggio asteriti ho visto anche Tex da qualche parte non me lo sono sognato a questo punto ci fermiamo almeno vi faccio vedere un albo all'interno vi ho portato il 1000 poi magari quando troverò qualche storia interessante in uno di questi numeri di questa fascia per dire vi mostrerò anche un albo all'interno magari potrebbe essere anche questo avevo visto Tex non me lo sono sognato quindi cerchiamolo ah c'è sempre qualche bella pistola chiaramente ci siamo a kinder sorpresa l'ovetto l'ovetto esiste dagli anni 70 credo proprio in quegli anni doveva essere uscito allora io devo assolutamente trovare Tex ve lo voglio far vedere perché c'era per me è proprio una questione di principio ve lo devo far vedere comunque cioè ragazzi 25 centesimi un albo così ma ripaga di qualche albo che magari è da sostituire sinceramente sono felice di aver fatto questi acquisti ringrazio Zia Lenne che me le ha suggeriti eccolo qua ok amico ce l'abbiamo fatta Tex Willio è il famoso errore di fumetti dei suoi Rangers saranno i tuoi compagni di avventura in un'emozionante serie di inseguimenti e di sconti per la conquista dell'accampamento indiano giochi clementoni ah però un altro nostro grande successo spacca quindi la trasmissione di Pippo Baudo per me è roba mai sentita sono nato pochi anni dopo ma tra nascita e consapevolezza diciamo che siamo 15 anni prima dei miei tempi quindi c'è poco da dire albo 1040 andiamo al 1041 acceleriamo un pochettino perché ancora c'è tanto da mostrare e siamo già avanti col tempo copertine KeyWrite storie estere italiane come sempre niente di particolare da segnalare ok 1044 quindi ecco su questo vi devo dire una cosa adesso allora abbiamo il 1041 manca il 1042 super Pippo anche qui e non c'era sicuramente 1043 con Paperina e Paperina ma questi due albi non c'erano quindi ne manca qualcuno 1044 abbiamo questo bellissimo disegno di Giovanni Battista Carpi pensavo che fosse di di sì di Giancarlo Gatti invece qua mi dice in Dax che è di Carpi e abbiamo una storia con Topolino Kid ovviamente albo bellissimo se non che ma il problema è che non è che me l'hanno venuto così si è rovinato in libreria l'ho messo in libreria e si è rovinato veramente questa è una cosa che mi fa arrabbiare scotch non gliene metterò non lo voglio sostituire mi devo inventare qualcosa perché veramente questa cosa mi dà un fastidio che non potete capire si è rovinato in libreria comunque 1044 acceleriamo un po 1045 questo ha qualche usura anche laterale sì questo magari si potrebbe pensare di sostituirlo ma a parte questo poi cosa c'è da dire c'è anche la cartolina all'interno è un peccato copertina di Marco Rota trovano scarpa nella prima storia niente poi non vi segnalo altro di particolare numero 1046 in questa fascia i numeri sono un pochettino più grossi forse contenevano più pagine evidentemente adesso guardiamo il 1046 e vi dico disegno di Marco Rota alla copertina 176 ah 210 pagine sì erano un po' più grossi gli albi perché c'è ci sono delle pubblicità di alcuni giocattoli siamo a dicembre ecco immaginavo quindi sono dei cataloghi evidentemente per spendere un po' di soldi ai genitori per i bambini anche qua disegno di Giancarlo Gatti ve li mostro ma perché mi sono veramente innamorato di questo stile 1046 1047 copertina natalizia siamo al 21 dicembre del 75 e su Indax c'è una copertina veramente pessima rispetto alla mia cover di Gatti anche in questo caso abbiamo questo ve lo faccio vedere un attimino macchia nera e furti paralizzanti di Jerry Sigala e Giancarlo Gatti appunto anche qui bella cover e bella storia guardando in quarta paperino e lasciare i pellicci c'è nel sommario zio paperone vagabondo cipciopi cercatori di perle topolino e cavatappi di tusco volevo vedere se su Indax veniva segnalata qualcosa sul Natale ma direi proprio di no però ragazzi guardate che begli albi che sono 1047 1048 in cui paperone ci saluta saluta il 1976 che sarebbe arrivato di lì a poco anche questa copertina di Giancarlo Gatti non mi pare che ci sia qualche richiamo al capodanno all'interno niente di particolare comunque anche questo un ottimo albo poco da dire 1049 Super Pippo la copertina questa è un pochettino più rovinata ma per chi ha sempre questo sfondo azzurro blu che quindi tende a rovinarsi maggiormente anche questo Giancarlo Gatti ha una storia di Rolfo Cimino e Giulio Cherchini su Brigitta quindi questa è interessante la scrittina di Pippo questa rubrica forse si parlava di scommesse e niente poco altro da dire 1050 questa è sicuramente una cover americana e di Joe Carrey per questo albo dell'11 gennaio 1976 abbiamo ah ecco Zio Paperonella Guerra di Cuori seconda puntata quindi dovrebbe essere relativa alla storia di no non è relativa alla storia di Brigitta pensavo fosse quella di Brigitta no è un'altra storia contenuta nell'albo precedente in cui c'è sempre Brigitta quindi nell'albo precedente abbiamo due storie di Brigitta quindi abbiamo almeno una scritta Massimo Marconi disegnata da Guido Scala quindi la seconda parte queste sono storie che magari sarà anche interessante leggerli leggere qua è un po' fuori registro ma è uscita così tornanoci Patch Hop nel numero 1051 accelero un pochettino sfondo giallo Pet Alvarado e Larry Mayer alle matite e agli inchiostri storie di Abramo Barossi giusteriti nella prima Topolino dell'oro invisibile poco altro da dire albo in ottime condizioni Big Jim 1052 questa cover anche questa americana sicuramente Peter Alvarado e Bill Bright paperina che cuce con agua e filo una gomma bucata da paperino è leggermente scolorito lateralmente si nota abbastanza però l'albo è in ottime condizioni non penso che lo andrò a sostituire qui abbiamo un'altra apparizione le imprese di Topolino Kid super testimone sono stati protagonisti se non sbaglio di 6 storie magari poi vi farò una retrospettiva un giorno e poi manca il 1053 copertina con Topolino e Pluto quel numero manca proprio quindi lo devo recuperare andiamo al 1054 con questa copertina di John Kerry e Larry Mayer con paperino e qui cuqua poi solite storie contenute all'interno dell'albo italiane ed estere albo in ottime condizioni 1055 questa è una bella cover con Lillo ogni tanto anche lui aveva questo questo onore sul disegno di Hal Hubbard una bella cover che ci mostra il pieno inverno siamo al 15 febbraio del 76 qui in quarta abbiamo questo proiettore con Robin Hood e gli altri personaggi Disney nient'altro da segnalare voi piuttosto se avete qualche storia particolare appunto da segnalare come vi dicevo prima ditemelo che ne possiamo parlare 1056 Marco Rota mi sembrava Giancarlo Gatti ma Marco Rota ci presenta questo questo albo che è introdotto nella storia di Rodolfo Cimino e Guido Scala si può però nell'ombra ultra galattica uscito il 22 febbraio 76 quindi 7 anni prima che nascessi io 1057 29 febbraio quindi anche il 76 questa sera è bisestile come lo sarà questo 2024 è uscito proprio il 29 febbraio appunto disegno di Marco Rota e si festeggiava il carnevale ecco qua 1058 questo è un albo ottimo ma che è stato scarabocchiato questo probabilmente è stato qualche bambino a suo tempo sono delle cose che mi fanno imbestialire perché se non fosse per questo l'albo sarebbe perfetto lo sostituirò sicuramente però non adesso 1058 sui disegni Paul Murray la prima la prima storia zio paperone la corrente del golfo a seconda puntata quindi è iniziata la settimana prima paperone vuole deviare la corrente del golfo per rendere coltivabile la groellandia 1059 questi sfondi con questi alberi e questo azzurro erano abbastanza frequenti ogni tanto capitavano ne abbiamo visto anche un'altra in questo lotto disegni Paul Murray anche qui un albo uscito nel marzo 76 poco da dire veramente bello 1061 quindi manca il 1060 chi aveva in cover paperino alle prese con un lavandino 1061 ezechiele e lupetto disegni Marco Rota abbiamo addirittura una storia paperino il casco d'oro zio paperone il casco d'oro scusate su trama di Karl Barks sceneggiata romano scarpa matite di scarpe inchiostri di Sandro Zemolin trama riciclata quindi evidentemente è stata presa la traccia da scarpa di qualcosa di Karl Barks ed è stata riadattata questa è una storia che sicuramente devo leggere quindi molto interessante 1062 questo paperino è infreddolito perché i Peccioppi hanno rubato la coperta disegnata da Marco Rota ci presenta la seconda parte della storia che vi dicevo prima il casco d'oro abbiamo anche Brigitta tra l'altro e altre storie tra cui una per esempio un eroe di nome Orazio che questo è interessante e così via quindi albo 1062 cosa possiamo dire su questi ultimi albi sono veramente belli 1063 questo è bello spesso siamo forse a Pasqua e magari c'è qualche catalogo per i bambini lo scopriremo matite e pipette alvarado inchiostri del rimeier è un albo veramente grosso questo 100 no sono 196 pagine però sembra più spesso forse è cambiata la carta comunque ottimo albo poco da dire veramente bello quest'albo 25 centesimi signori 25 centesimi 1064 quindi albo successivo disegno di Marco Rota super pippo l'immunità diplomatica interessante anche questo albo in ottime condizioni dell'aprile 76 1065 super pippo su una nuvola disegno di Marco Rota anche qui abbiamo varie storie ce n'è una dedicata alle nipotine Elievi e Nemi che paiono veramente di rado guardate che bello comunque ah Moby Duck anche qua abbiamo le nipotine eccole qua sempre alle prese con le giovani marmotte questo è un pochettino invecchiato ma nel complesso va benissimo ecco poi iniziano le olimpiadi del 76 ecco qui la prima cover effettivamente ha qualche usura di troppo più che altro ha qualche qualche fioritura perché se non fosse per questo ci sarebbe poco da dire infatti non è detto che non me lo terrò quest'albo comunque si nota particolarmente perché è una cover bianca e quindi giustamente i difetti emergono maggiormente però iniziano le operazioni olimpiadi in attesa che in DAX si riprenda guardo un attimino se c'è qualche storia dedicata alle olimpiadi mi sembra di no è possibile che vi fosse anche qui qualche operazione legata alle olimpiadi del 76 qualche altra medaglia direi segnalatemelo perché ho notato che con le olimpiadi si si parlava molto cioè Topolino si spendeva molto quando si trattava le olimpiadi partecipazione competizione diciamo fatta in maniera sana addirittura abbiamo un Lego un Lego Technic no direi di no sono veramente orrendi questi questi set ma d'altronde siamo negli anni 70 non possiamo pretendere più di tanto vediamo se in DAX si riprende nel frattempo ne approfitto per vedere se nel numero precedente vi fosse qualche rimando a quest'operazione olimpiadi perché a volte capitava anche così ma mi sembra proprio di no segnalatemelo voi in questo caso se vi sia qualche richiamo alle olimpiadi niente mi sa che in DAX è saltato del tutto vi faccio vedere quella successiva mi regalo un super atleta di topolino numero 1067 anche questa mi sembra una cover veramente carina e l'albo in condizioni perfette l'altro se non avesse queste macchie avrebbe ben poco da da diciamo da da essere sostituito allora proviamo l'ultima volta se riparte in DAX o se la connessione che ecco no era in DAX che che non andava purtroppo il sito non è molto affidabile vediamo se riusciamo a farlo riprendere intanto vi mostro queste cover delle olimpiadi poi abbiamo quella successiva 1068 il regalo un super atleta di topolino anche questa poco da dire ah tra l'altro qui c'è anche il bollino vediamo se posso far rivedere qui c'è una storia in costume pippo e cavaliere da tavola rotonda qui c'era il bollino che era ancora presente lo sarebbe stato per ancora per un po' di anni ecco forse si è ripreso in DAX niente in DAX se si sta troppo dietro se lo se lo si si sollecita troppo non ce la fa allora 1066 copertina di Marco Rota sto guardando se c'è qualche iniziativa sugli olimpiadi no non ne parlano lo scopriremo 1067 anche questa penso sia una copertina di Marco Rota esatto e 1068 anche questa Marco Rota 1069 il regalo al super raccoglitore di super atleti quindi evidentemente c'era un'iniziativa questo è un disegno di Marco Rota molto molto classico ma poco altro da dire poi abbiamo 1070 anche qua Paperina che fa la notatrice fa i tuffi sempre questo anche questo disegno di Marco Rota 1071 gamba di legno gamba di legno che gioca a hockey anche questo Marco Rota il regalo di un super atleta di topolino anche in questo caso vedete gli albi sono praticamente perfetti 1072 giugno 76 quindi procediamo velocemente nel giro di una decina di minuti vorrei finire il video Marco Rota anche qui nella 2 cavalli addirittura che fa il camel trophy olimpiadi 1073 Paperone che fa il lancio del disco quindi c'era questa operazione il regalo un super atleta di topolino fatemi sapere di che cosa si tratta perché io non ho la più pallida idea 1074 abbiamo finito con le olimpiadi cominciamo con Pippo sul disegno di Marco Rota anche in questo caso topolino il furto di topolino e Michele Magazzari e Sergio Asteriti prima parte storia di fantascienza anche questo è un albo in ottime condizioni poco da dire 1075 questa è sicuramente americana come storia sul disegno di Bob Gregory finisce la storia quella dedicata all'invasione aliena furto di topolinia poco altro da dire sull'albo ottime condizioni 1076 luglio 76 quindi siamo in piena estate disegno di Marco Rota solite storie appunto un po' italiane un po' americane niente di che poi 1077 torna Moby Duck con porco il suo delfino ecco questa è una storia che ha delle fioriture c'è un albo che ha delle fioriture però anche qui nel complesso ecco qui c'è il bollino a proposito poco da dire penso che lo terrò così non non mi crea grossi disagi è un albo sì che sia un po' sporcato però va bene così non mi dà grossi problemi prima storia tra l'altro Paperino il revival dell'indipendenza prima puntata Guido Martino e Giovanni Battista Carpi avventura con rievocazione dell'indipendenza americana 1078 abbiamo questa cover di John Kerry abbiamo la seconda parte il revival dell'indipendenza quest'albo è un po' rovinato è un po' scollato da qua volendolo potrei restaurare questo sì che si può restaurare con un po' di colla non penso che merite di essere sostituito la storia finisce qua qua bisogna incollare semplicemente non penso che sia un albo che dovrò andare a cambiare la CX 2002 ogni tanto spuntavano questi capolavori Guido Martino ancora ma per qualche anno avrebbe ancora collaborato col Topolino 1079 torna Super Pippo non sono molto fortunato con le copertine Super Pippo perché sono quelle un pochettino più a brase ma avete visto che a parte i primi numeri poi complessivamente c'è poco da lamentarsi di questo lotto e miglioreranno sempre di più abbiamo disegno di copertina di Roger Armstrong alle matite incosso di Harry Mayer e poi la prima storia Guido Martino e Giancarlo Gatti tre paperi in barca c'è anche Malachia o Malachia bell'albo anche questo si può trovare di meglio ma va bene così 1080 ci avviamo alla conclusione ancora qualche minuto allora Pitt Alvarado e le Harry Mayer alle matite agli inchiostri la seconda parte della sole Guido Martina tre paperi in barca per tacere del gatto agosto 76 per questo bell'albo 1081 ferragosto del 76 è uscito proprio il 15 su disegni di Marco Rota abbiamo una bella storia di spionaggio topolino operazione segreta in quella calda estate c'è anche il dottor Enigm quindi interessante molto belli Barbie che andava per la maggiore 1083 quindi manca il 1082 quindi manca qualche albo qui abbiamo nel 1082 avevamo Paperino in barca con Zio Paperone la recupererò ma quindi mancano credo 5 o 6 albi 1083 29 agosto 76 anche questa è una cover sbiadita perché ha questo questo sfondo così scuro che tende a sbedirsi particolarmente però mi sembra un albo in buone condizioni sì magari potrei decidere un domani di cambiare per avere ah no ecco qui manca una pagina perfetto sono contento lo dico sul serio perché questo è uno di quei albi che magari mi sarei fatto andare bene però non mi faceva impazzire però visto che manca una pagina questo è sicuramente da sostituire la prima storia era di freddy milton de massimo de vita zio paperone dell'affare greggio e la copertina di pete alvarado e bill wright bene sono contento quando ci sono queste situazioni che mi lasciano un po' sul sospeso se arriva come in questo caso la mancanza di una pagina si sostituisce e siamo e siamo felici così questi questi video come vi dicevo mi servono anche a questo ossia a controllare che non ci sia qualche albolo a sostituire che mi sono perso per strada 1084 marco rota prima storia di romano scarpa questa è questa ha preso umidità sicuramente però al netto di questo non so se cambiarlo perché sinceramente è un albo in buone condizioni si nota perché è giallo ci devo pensare ma me lo potrei anche tenere così perché non manca niente 1085 pete alvarado fine estate settembre 76 questo è un albo veramente messo bene c'è poco da dire non si riesce neanche ad aprire gg radice allenatore del torino che vinse il campionato quell'anno a proposito fra un po' ci saranno anche le copertine calcistiche 1086 tip et up con compluto sul disegno di marco rota qui abbiamo la prima parte dei promessi paperi quindi ve lo devo segnalare Edoardo Segantini Giulio Chierchini disegni Giulio Chierchini quindi questa è una storia che sicuramente mi andrò a leggere 1087 John Kerry Larry Mayer seconda parte dei promessi paperi anche questa sarà letta e recensita sicuramente vediamo se finisce qui ma penso di sì esatto e qui cominciamo con le con le cover calcistiche abbiamo il Torino nel 1088 disegno di marco rota che era campione in carica 75-76 quindi il Radice era stato intervistato poco dopo lo scudetto Topolino Kid copertina appunto con il Torino campione d'Italia poi magari farò un video apposito dedicato alle copertine calcistiche albo in ottime condizioni 1089 questa è un po' rovinata sinceramente questa cover abbiamo il Napoli è un po' invecchiata e manca un po' di di carta qui però devo vedere se valga la pena sostituirlo Napoli 1926 sempre su disegno di Marco Rotta poi abbiamo il il 1089 scusate 1090 questo è imbustato perché me l'ha regalato l'amico Michele Lem perché non ce l'avevo è un albo in buone condizioni è regalato quindi va benissimo copertina con il Genua 1893 la squadra più vecchia d'Italia di quelle cui si abbiano tracce certe su disegno sempre di Marco Rotta non vi mostro le storie perché voglio accelerare che entro un'ora e dieci voglio terminare 1091 Ezechiele Lupo che fa la lupa di Roma tip e tap che bevono al suo latte ovviamente non dalle mammelle ma dai biberon sempre su disegno di Marco Rotta questa è una cover un po' rovinata però nel complesso è un albo in buone condizioni questo magari potrei decidere se cambiarlo ma si vedrà 1092 Inter Football Club 1908 anche qui ovviamente tutti i disegni Marco Rotta questo è il serpente di Ser Sir Sir lì mi ricordo come si chiama quello di di Robin Hood preso in mano da Paperino anzi per il collo albo in buone condizioni per l'Inter poi abbiamo la Fiorentina il numero 1093 ecco questo qui è staccato ma basta un pochettino di colla e torna al suo posto lo devo fare perché mi sta irritando vederlo così qui abbiamo zio papera l'assegno del minerario tante belle storie ma magari poi ve le mostrerò in un video apposito abbiamo Penna Bianca e Fior di Luna la sorella di Penna Bianca chiamata Little Mineana che è il suo nome originario originale e viene a lei donato il giglio di Firenze quindi per la Fiorentina poi si passa al numero 1094 abbiamo quasi finito con Ciccio che ruba un piatto di tagliatelle bolognesi che appunto ci presentano il il la copertina dedicata al Bologna 1909 anche questo albi in ottime condizioni albi molto grossi veramente poi abbiamo il 1095 con il Milan Associazione Calcio 1899 e ovviamente il Diavolo che in questo caso è Gamba di Legno e Topolino con lo sovrasta sempre disegnato Marco Rota albo veramente grosso poi abbiamo il 1097 ma anche il 1096 quindi quello lo dovrò recuperare che per la cronaca aveva in copertina Moby Duck con Porpi che rappresentava con l'anterna di Genova la Sampdoria 1946 e in questo 1097 abbiamo Paperoga che ha dentro una boccia Codino Codino personaggio inventato da da Romano Scarpa perso in una sola storia negli anni 60 qui abbiamo Sandopaper la Pele Lab 1 è interessante la seconda puntata la prima parte è nell'albo che mi manca è un po' rovinata questa cover però potrebbe essere sostituito da un domani oppure mi potrei fregare perché tanto manca solamente un pezzettino di di carta qui di lato 1098 abbiamo ecco qui c'è un grosso refuso sempre su disegni Marco Rota abbiamo Lupetto che cavalca l'Aquila Olimpia della simbola Lazio e poi Lazio società sportiva 1910 la Lazio è nata nel 1900 è stato detto tante volte ma questo è albo buono poco da dire questo è uscito il 12 dicembre 76 poi abbiamo il 1099 con la cover del Verona con i nostri porcellini Jimmy Timmy e Tommy con la scala che rappresenta Verona è un pochettino sbiadita ma niente di che e poi abbiamo l'ultima ma non è l'ultima calcistica perché ce saranno credo ancora due nella fascia però 1100 che vi mostrerò dopo il Perugia questa cover è rovinata questo albo è rovinato dallo scotch lo sostituirò non è prioritario però vi ho detto che scotch non ne vorrei avere almeno per i numeri vecchi e qui abbiamo il Perugia associazione calcio 1905 con Archimede il grifone di Perugia che è simile a quello di Genova del Genoa ed edi con il suo grifone robot questa prima storia di Ian McDonald e disegni di Guido Scala mi sembra averla già vista o comunque conosco già questo personaggio va bene questo è quanto vi ho terriato abbastanza vi ho mostrato vi ho voluto mostrare però le copertine della fascia 1100 dalla 1000 alla 1100 che ho recuperato penso che tra l'altro questo in realtà è venuto mostrare nel prossimo lotto però va bene così non è un problema penso che siano stati degli ottimi acquisti complessivamente manca qualche albo che proprio mancava nel lotto e qualcuno da sostituire però in linea di massima c'è poco da dire un saluto commentate scrivetemi delle curiosità raccontatemi le cose che non so e ci vediamo col prossimo video